Buongiorno, sono qui per parlare di LOL perché sono uscite le ultime due puntate e volevo fare una riflessione con voi. Se ne è parlato molto in questi giorni perché è piaciuto molto, per cui mi interessava fare una riflessione su come mai questo programma abbia avuto così tanto successo. Il programma è un format international, non so dove venga, ci sono dieci comici, la maggior parte molto famosi e molto navigati, che non possono ridere. Devo dire che il mio atteggiamento, guardando questo programma, è quello di provare a non ridere. Non so se è un atteggiamento da comico o da amante della comicità. La prima cosa interessante che noto è che quando si cerca di far ridere qualcuno ti insegnano o comunque si impara che prima la cosa deve far ridere te, deve piacere a te e se piace a te puoi piacere anche agli altri. Questo è il motivo per cui capita spesso nel programma che i comici ridano dalle proprie battute. Per cui immagino che ci sia questa difficoltà, di dover fare qualcosa per cercare di far ridere gli altri senza ridere dalle proprie robe. Una delle prime cose che ho notato è una grande differenza di scuola, di mestiere, tra chi ha qualche anno di più e anche tanti anni di televisione, di cinema, radio, come Lillo, Pintus, La Follesa, Caterina Guzzanti. Credo che per loro sia molto più facile pensare che stanno lavorando e che nel lavoro che stanno facendo oggi il lavoro è non ridere perché fa parte del mestiere. Oggi gli hanno chiesto quello e fanno quello. Credo che invece per gli altri, per quelli più giovani che sono nati magari facendo cose sul web oppure facendo stand-up comedy, avendo preso questa cosa più come un gioco alla fine per loro lavoro è fare i cazzari. Per cui entrare nella logica che stanno lavorando ma non possono ridere sia più difficile. Mi sono chiesto perché questo programma abbia avuto così tanto successo. La risposta che mi sono dato è che scatti quel fenomeno che è tipico di quando si vede il clown, il fallimento del clown. Cioè che a noi piace vedere qualcuno che soffre, fondamentalmente. Per cui noi vediamo loro, cerchiamo di non ridere, ma noi ridiamo e pensiamo minchia che fatica che sta facendo quello là a non ridere. Credo che per noi sia bello vedere la fatica che loro fanno per cercare di resistere. E probabilmente ci si immedesima. Poi dall'altra parte c'è il controcanto, cioè Fedez, Ramayonchi e tutti gli eliminati che invece si possono sfogare e che quelli ci fanno dire ah sì, anch'io me la sto vivendo così, che figata, noi possiamo ridere ma loro no! Loro no! Questa è la riflessione più interessante che mi viene da fare sulla comicità che abbia questo programma. Io sono molto contento che questa cosa abbia fatto parlare molto perché c'è un grosso vuoto di comicità... non dico fine, però di una grossolanità leggera. Cioè qualcosa che stia in mezzo fra un film di Woody Allen e Made in Sud, capito? Ne abbiamo bisogno, soprattutto adesso. Ciao!